Dovrebbe essere un quartiere nuovo perché hanno fatto due palazzoni di là e in programma un terzo, però dalla parte di là è tutto un degrado, hanno fatto le fosse per l'acqua. I cestini sono pieni, per terra ci sono gli escrementi dei cani, ma soprattutto l'erba è altissima. In quello che doveva diventare un piccolo gioiello nel cuore di Trivignano, lungo la Castellana a Mestre. Questo è lo stato di quello che dovrebbe essere il parco del nuovo quartiere residenziale qui a Trivignano. Eppure nessuno vuole metterci piede perché come vedete da una parte l'erba è altissima, dall'altra non ci si può nemmeno sedere sulle panchine dove sono addirittura cresciuti i fiori. I residenti denunciano lo stato di abbandono della zona, sorta nell'ambito del progetto nuova a Trivignano, che però tanto nuova non sembra. Basta spostarsi di qualche metro qui dove proprio si vedono le nuove costruzioni, il quartiere residenziale, eppure la situazione non è diversa, anzi anche qui l'erba è altissima. È altissima, ci sono gli alberi, è quasi più alta degli alberi. No, non viene nessuno, so che io stesso ho fatto la segnalazione attraverso il sito e anche altre persone qua della zona l'hanno fatto. L'ultima volta ha funzionato e la situazione era uguale a questa, segnalando al sito, ma adesso aspettiamo. I residenti che lamentano anche un'eccessiva presenza di zanzare dicono di aver già segnalato il problema a Veritas più volte, ma il risultato non è stato dei migliori, per questo si appellano nuovamente al Comune affinché intervenga al più presto.